Amiche, amiche, faccio in fretta perché si sta un po' al calduccio qua fuori, ma a parte che vi volevo salutare, vi volevo anche raccontare cosa è arrivata la minuccia, sbaglierà, guardate che meraviglia, questo è un dono, questo è un dono paesano, ma ne ho tanti dentro, di varie misure di ortaggi, guardate che bella sta cipolla, e oggi si cucina, amica, che ce le facciamo invecchiare. Allora, ho imparato, non solo dai miei libroni, lui è uno dei più vissuti, guardate, è proprio tutto sconquagnato, tra l'altro andrò a restaurarlo, me lo andrò a restaurare in associazione Itinerar Cultura, perché merita. Allora, sono cambiate molte cose da che ho acquistato questo libro Luxury Box, io le adoro i libri della Luxury Box, perché da quando ho eliminato il glutine, quasi totalmente, diciamo sì totalmente, e poi quando mi trovo in giro, o vuoi una colazione, o vuoi un invito dove proprio non posso schertare di tutto, insomma, cerco però di, quando so mi preparo prima, e poi pago pegno nei giorni successivi. Quindi sì, io ho eliminato il glutine, ma tutta una serie di alimenti che purtroppo compaiono anche qua. Luna dice, ma le verdure fanno bene tutte? No, perché non siamo una pattumiera, no, perché l'ho potuto verificare, no, perché il tempo è lungo per essere solo un effetto placebo, troppo lungo. E poi faccio le prove di nuovo, eh, faccio le prove, perché so che io, quindi non è che ho eliminato le cose che non mi piacciono, perché per quanto riguardano gli ortaggi, per quanto riguarda gli ortaggi, a me piacciono tutti, ma proprio tutti, dai più pestiferi amari a tutto, tutto, tutto l'ortaggio. Non ne scarto uno, se le pietanze cucinate, qualcosa non mi va, ma anche di carne o i pesci, sì, tipo le cose, come le definiamo, le serpenti, oi mamma, non le sopporto, che tanto non mi vengono in mente, così come la cervella, così come delle cose, non le mangio, così come l'insalata russa, io che mangio gli ortaggi e faccio la maionese in casa, non la voglio manco vedere, perché subito mi viene in mente che soffro l'automobile, eh? Quella roba lì, non vi volevo dire, proprio nello specifico. Oh, ne ho imparata una, che è gluten free, e volendo, perché consigliano anche l'uso ad esempio della farina di riso, ed è vegana, ed è vegetariana, e va bene a tutti, perché se non si definite, già quando dite, io mi nutro seguendo un piano alimentare che comprende alimenti indicati e suddivisi per i vari gruppi sanguigni, sapete come quella cosa, no? I complottisti, quando sentite nominare la parola complottismo, già iniziate a sentire il puzzare di bruciato, chi lo dice, lì dietro c'è una verità, ormai dovresti averlo capito, eh, che ci prendono un po' in giro, comunque, eh, io ho seguito ragionamenti, la mia nutrizionista a distanza mi ha rimessa in sesto, e il dottor Mozzi, lo dico io proprio, non ho, lo trovo una persona saggia, e che mi ricorda proprio il medico che mio padre aveva conosciuto come radioamatore, che poi ha frequentato casa, era molto più grande di mio papà, il dottor Del Santo, stesso cognome del mio libraio, che in paese è stato partigiano, ma di quelli sani, di quelli che non ha andato in giro a fare danni, perché purtroppo, da una parte e dall'altra, ne abbiamo avuto di cattive, di brutte, c'è poco da fare, la realtà è stata quella. Quindi il dottor Del Santo, che abitava a Pian di Madrignano, alla Spezia, in provincia della Spezia, o Massa, è Pian di Madrignano, comunque sapete, è una provincia che si incastra alla nostra con tante altre, come molte, insomma. Insomma, insegnava metodi di cura a mio padre, tipo quello per la pertossa dei gemellini di casa, ecco, quella delle canne fluviali, tagliate da nodo a nodo, in modo da formare un contenitore, come un vasetto, e di riempirle di zucchero, lasciarlo riposare e far bere questa cosa ai miei fratelli durante la giornata. Erano piccini, avevano avuto due anni, che saranno buscate là per tosse, ma tanti altri rimedi. E questo medico faceva, medico generico, veterinario, dentista, quello che serviva, lui faceva. Era un umone, quando l'abbiamo conosciuto lui, con una testa di riccioli bianchi, quelli morbidi, un po' spetenà e i baffi aveva, dottor del santo, tanto affetto. Insomma, quindi, non è una bagianata, anzi, tutt'altro, ci sono persone che riescono a tenere a bada le proprie patologie varie. Poi, chi invece preferisce mangiare di tutto, perché tutto bisogna mangiare, vorrei capire in quale vangelo l'ho detta, però va bene. Io mangiavo di tutto, non stavo bene, mangio quello che... Man mano continuo a testare, anche le quantità, le modifico, qualcosa aumentato, qualcosa mangio riducendo nel volume o anche diradandolo nel tempo. Insomma, mi sto... sto contenta. Comunque, ieri ne ho imparata una, non da libri, ma da YouTube. No, ieri è l'altro. Ieri l'ho fatta, ho fatto la mia prima coccoide, saccocoide, birdura, che adoro parlare sardo. Non è una frittata, è un qualcosa che si prepara tradizionalmente nel forno, ma che si può realizzare anche in padella. L'ho fatta in padella, una padellona che mi ha regolato Camilla, antiaderente, bella, pratica, funzionale. E si differenzia da una preparazione, tra l'altro, delle mie parti, di Viareggio, di Camaiore. Dico delle mie parti perché sono abbastanza vicine alla provincia di Spezia, poi ho anche radici toscane. E poi ho frequentato a lungo la mamma di un mio amico di gioventù, insomma, via Regina, che faceva, guardate, la vita contadina a casa in città, di quelle che non si lava in lavatrice, aveva il catino, la tinozza per fare il bucato. Lei mi ha insegnato che cos'è il bucato, perché aveva quel cono che metteva all'interno, dentro metteva la lisciva al cono e tutti stiva poi usava il fuoco sotto. Lei, le lenzuola, aveva due persone anziane, tra l'altro, a casa. Due figli, un marito simpaticissimo. Il marito l'ho goduto di più, l'ho visto di più, perché quando ho aperto il salone, che mi spostavo un po' di meno, mi passava a trovare e mi portava la figlia a farsi i capelli, a sistemarsi i capelli, la Valentina, prima del trasferimento in quelle. Mi pare Milano sia nata Valentina. Io ero mica del figliolo di Enrico. Queste mie cose di famiglia. E la mamma lì mi ha insegnato tante cose. Faceva una torta di riso via regina, che ve lo dico a fare, alta, diversa dalla nostra ligure, piena di tutto. Un po' la nostra è più spartana, burro, zucchero, uova, un po' di scorza di limone e basta. La sfoglia, la sfoglia matta all'esterno, la nostra torta di riso. Ormai non sa più fare quasi nessuno. E non mi ha mai parlato, io non me lo ricordo, della scarpaccia. La scarpaccia è una pietanza semplicissima. Si realizza con le zucchinette piccole. Questa non è la razza loro. Qua vedete c'era ancora il fiore. Quelle un po' più fresche. Non fresche, questa è freschissima. Le primizie, che poi si fa con quello che c'è, perché io poi queste le taglierò comunque con la mandolina. Belle sottili, si mettono in una ciotola con i fiori. Dei fiori si ricavano solo i petali, si fanno a striscioline. Sale, pepe, olio, un po' si fa riposare qualche ora, c'è chi dice mezz'ora. Io il socco coi l'ho fatto dopo 20 minuti di preparazione delle verdure intingolate e poi strizzate. Vi lascio sotto nell'info box comunque i link per aggiungere due o tre video, così ve ne fate una cultura, perché io ieri questo ho fatto anche. E mi piace un sacco sentir parlare di tradizioni, soprattutto alimentari. e quindi la scarpaccia vuole solo zucchina, solo sale, solo olio, volendo un po' di pepe, niente uova, niente formaggio e farina. Si può fare con la farina di riso, quindi si può fare gluten free ed è semplice, semplice, ve lo ripeto. Si affettano le zucchine con la mandolina, si mettono in una ciotola, si sala, si pepa, si olia e si lascia riposare. Chi dice qualche ora, chi no. C'è chi mette la farina direttamente nella ciotola dove ha riposato la verdura. Io preferirò fare, e lo rifarò anche con la scarpaccia, quella di recuperare il liquido strizzando le verdure e aggiungendo la farina di riso lì, facendo la pastella, poi scaravoltando la verdura nella pastella e poi cottura in padella. Se avete un forno esterno, fatelo nel forno esterno. Se avete un forno di campagna, il fornetto di campagna o estense, fatelo lì, fatelo dove vi torna meglio, se è buona. Allora, invece, il sacco coi, questo pane di verdure sardo, ecco che ho fatto ieri, l'ho realizzato unendo due ortaggi di stagione, zucchine e carota, cipollotto fresco, farina e ci ho messo un ovetto, ma anche quella si può fare senza uova. C'è chi, a seconda delle zone della Sardegna, fa utilizzando la ricotta salata o il pecorino o altri formaggi non proprio stagionati, anche un po' freschetti. Lo strato è di circa un centimetro, vuole la cottura al forno, ma si può fare anche nella padella. Io ieri l'ho fatta nella padella, senza formaggio, solo con un ovetto piccolo di paese. Ed è venuta buona, ma la sono scofanata tutta. Guardate che ho usato due carote, più piccola di questa, appena appena un po' più smilze, e due zucchine, diciamo, più o meno come questa. Un po' più, ecco, vedete, un po' più magra sopra, quella è un po' più regolare. Anche quella me l'ha regalata. Bene, adesso vado a preparare le mie verdure, perché vado a fare i peperoni ripieni, li cuocirò nel fornetto Versilia, che è quella sorta di teglia per ciambellone col coperchio forato, si utilizza sul fornello piccolo della macchina del gas di casa, e poi farò anche le zucchine tonde ripiene, le farò di piene di riso e di altre cosucce. Oggi si cucina, ciao! e non si spegne.